Sono in vigore ormai da dieci giorni ma continuano a far discutere e soprattutto a scatenare le proteste di molti cittadini. Stiamo parlando dei nuovi percorsi di molti autobus urbani che penalizzerebbero soprattutto le zone più periferiche della città e le frazioni. Residenti operatori commerciali della zona residenziale artigianale dell'Anselma hanno depositato in comune la petizione sottoscritta da un centinaio di persone per chiedere il ripristino del passaggio dei bus. E' stato chiesto un incontro al sindaco Paolo Dosi per spiegare i tanti disagi che i cittadini di via Pancoti ed intorni lamentano dovuti al fatto che non arriva più la linea 3 e che la fermata più vicina è quella della 19 in via Caorsana. Più strada da compiere a piedi ma non solo visto che viene evidenziato come ci siano ragioni di sicurezza che sconsigliano soprattutto agli anziani di camminare da soli al buio in una zona non molto ben frequentata soprattutto nelle ore serali. Il comune si è impegnato ad ascoltare le segnalazioni dei cittadini e a verificare l'andamento dei nuovi percorsi dopo qualche settimana di sperimentazione dicendosi pronto ad eventuali aggiustamenti ma sottolineando come con la novità molte zone della città, besure che farnesiani in particolare siano meglio servite. Grazie a tutti.